È difficile dimenticarsi e pensare completamente ad altro, anche se ho tanti hobby, ma la medicina rimane la cosa principale ovviamente. Ha risposto all'appello lanciato dall'azienda ospedaliera Marche Nord, Antonio Dottori, medico in pensione che dopo aver lavorato anche all'ospedale di Pesaro per 25 anni, ha diretto fino al 2015 il pronto soccorso del Santa Croce. Colpito dal Covid nei mesi scorsi, ha deciso di dare il proprio contributo in questo periodo di emergenza sanitaria dove si registra una carenza di personale. In questi giorni sto firmando fogli, domani dovrei andare a firmare il contratto e salvo sorprese riprendo il servizio dal primo dicembre. Dove verrà collocato? Mi ha detto il dottor Titolo che attualmente è il dirigente del pronto soccorso di Fano, che dovrei stare nelle retrovie, cioè seguire l'osservazione breve e intensiva, l'osservazione temporanea. Cioè diciamo è il luogo in cui i pazienti vengono appoggiati dopo la visita in pronto soccorso in attesa di essere sistemati nei reparti o dimessi. Il contratto ci spiega Sara di sei mesi, poi si vedrà anche in base all'andamento della pandemia. Nella prima fase, durante il lockdown, aveva deciso di non scendere in campo perché Antonio, 69 anni, lo scorso anno ha avuto un infarto ed è un soggetto a rischio. Ora invece, sapendo di essere già stato contagiato, è più tranquillo. Infatti la possibilità di infettarsi nuovamente è minima. Come lui, anche altri colleghi, sia medici che infermieri, hanno deciso di tornare in servizio. Che cosa la preoccupa di più? La medicina non si dimentica perché è come andare in bicicletta, ma il problema è ricordarsi quel farmaco quante volte al giorno, in che modo e tutto il resto. Credo che mi ci vorrà almeno una settimana per riprendere un minimo di abitudine. Dottori, che sta dimostrando un grande coraggio, oltre alla passione per il suo mestiere, ha ricordato anche il servizio di volontariato che ha svolto di recente, in Ecuador e poi, gli anni difficili in cui si lavorava, cercando di combattere un altro virus, ancora più insidioso, l'AIDS. È difficile togliere la paura di un nemico invisibile. Io, come dico, prima di tutto sono forse e forse sono un incosciente, non lo so. Se io entro in pronto soccorso adesso, sono passato l'altro giorno a vedere con il collega, non è che si lavora come una volta. Si lavora con un camice usa e getta, comunque con camici appositi. Si lavora con la mascherina, ovviamente, e con i guanti. Quindi l'eventualità di venire a contatto col virus è ridotta al minimo. Il Covid è estremamente infettivo ed estremamente diffuso, molto più dell'influenza normale invernale, soprattutto perché l'influenza invernale viene dominata dal vaccino. Il Covid purtroppo ancora no. Quando avremo il vaccino saremo nelle stesse condizioni.